Accomunate dalle nuove guide tecniche, Angolana e Celano danno vita ad un derby bello e intenso che restituisce un'Angolana tonica, reattiva, tra le migliori dell'anno. E' capace di imporsi per 2-1 su un avversario che ha mostrato il suo spessore solo nel secondo tempo. Celano al completo, Petrelli recupera Villa e lascia in panchina Sibiglia. Norsce è privo di De Amicis, Rachini e Di Martile, manda in panchina Vespa e schiera 5 fuori quota. Nei primi 20 minuti si vede poco, Angolana e Celano sono impegnate a studiarsi, ma a metà frazione chi propone la prima accelerazione ha ragione. Da oltre 20 metri l'esecuzione piazzata di Cavicchia chiama al volo plastico Bartoletti su un pallone diretto sotto l'incrocio. Dal seguente corner Pepe strattona Fuschi pronto all'incornata. Taglioli di Cesena ben appostato indica il dischetto tra le proteste ospiti, un episodio che susciterà anche le perplessità del tecnico Petrelli. Cavicchia non si fa distrarre e fa seccolo specialista a pararigori Bartoletti con un sinistro potentissimo. Per il Celano piove sul bagnato, poco prima della mezz'ora infortunio al naso per Raparelli, sostituito da Mione. L'Angolana invece viaggia sull'entusiasmo e dal 33esimo raddoppia al culmine di una splendida azione costruita da due babies, creati pesca in verticale Pirozzi, cross di prima verso il centro area dove irrompe il solito Marco Cavicchia, piattone sinistro, doppietta e gol numero 9 per la classifica dei bomber. L'esperienza dei senatori e l'entusiasmo dei giovani. L'Angolana si ritrova bene in campo contro un Celano spento, centrale il sinistro di Di Nardo a fine primo tempo. L'intervallo è l'occasione giusta per Petrelli per striglieri suoi e apportare alcune modifiche tattiche. Il Celano del secondo tempo ha ben altro piglio, infatti dopo un altro sinistro di Di Nardo sopra la traversa, al 13esimo Prosia recapita un gran pallone a Cesaro, il quale clamorosamente manda a lato. Il Celano preme, il gol è rimandato di due minuti. Sulla punizione di Selvaggio una carambola libera Morelli davanti a Bifulco, il furetto celanese è più spietato e accorcia le distanze. Per 5 minuti l'Angolana resta sotto assedio ma resiste e con personalità viene fuori, nonostante al 23esimo debba rinunciare ad un generosissimo tacchi per infortunio. Entra Vespa. Il Celano però è grande squadra e la palla del 2-2 comunque se la costruisce. 33esimo Cesaro crossa per la testa di Selvaggio, sembra fatta ma la risposta di Bifulco è miracolosa. L'Angolana rovescia il fronte con Vespa e Cavicchia, Bartoletti smanaccia in calcio d'angolo. Il finale è intenso ma l'Angolana non soffre e dalla fine dopo 5 turni di astinenza ritrova la via della vittoria, la prima dell'era Norsia. D'altro canto Petrelli incassa il primo stop senza drammi, con la consapevolezza che c'è ancora molto lavoro da fare. Abbiamo preso un gol sicuramente da rivedere perché calci di rigore in quella maniera sui campi italiani sicuramente non se ne danno e abbiamo subito l'infortunio di Raparelli. Quindi una partita è iniziata male e forse è finita peggio perché nel secondo tempo avremmo potuto anche ribaltare il risultato di 2-0. C'è stato anche qualche accorgimento visto che ha cambiato leggermente la posizione di Morelli. Direi che un po' tutta la squadra comunque ha cambiato passo nella ripresa. Sì, ho cambiato la posizione di Morelli, ho cambiato la posizione di Selvaggi, quindi le modifiche sono state fatte, lo stesso Vila gli ho modificato il ruolo, ma questo per una quadratura, ripeto, che noi dobbiamo avere dal primo minuto e non stata facendo per degli accorgimenti tecnici. Ma già l'altra settimana questa squadra aveva dato dei segnali positivi, poi per sfortuna abbiamo preso quel gol da 40 metri che ci ha tolto di riportare un punteggio positivo. Io ero tranquillo perché vedo i ragazzi in crescita giorno per giorno, si doveva solo dare un pochettino di tempo per riportare questa squadra a livello un pochettino accettabile e penso che ci stiamo riuscendo. Devo ringraziare i ragazzi perché ce la stanno mettendo tutta e spero di uscire da questa situazione un po' equivoca. È una squadra che sembra più tranquilla, l'ho dimostrato nel primo tempo e anche dopo il gol di Morelli, a parte quei cinque minuti di assedio, comunque la squadra non si è fatta mai schiacciare. Sì, infatti questo mi conforta. Adesso ce la possiamo giocare con tutti. Normale che sono partite difficili, dobbiamo andare con la Val di Sangro e poi col Penne in casa, sono derby, però avere una reazione con la terza in classifica positiva in questa maniera senza dare cenni di sbandamento tranne sull'azione del primo gol. Penso che sia già una risposta positiva dei ragazzi.